Sarà presentato domani sera 25 luglio alle ore 20 nella suggestiva atmosfera del chiostro di San Francesco nell'ambito del Giffoni Food Experience il ricettario dei sapori del sole. La fortunata serie televisiva prodotta da Goi Comunicare in onda su Alice TV ha riscosso negli anni notevole successo raccontando le ricette legate ai prodotti del territorio. Da qui l'idea di un ricettario con oltre 100 ricette che parlano di tradizione, eccellenze e dieta mediterranea. Una presentazione attesa soprattutto perché i sapori del sole rappresenta l'unico format televisivo in Italia sulle eccellenze gastronomiche produttive campane, autentica punta di diamante del palinsesto di Alice TV. L'appuntamento di Giffoni Vallepiana sarà moderato da Alfonso Sarno. Parteciperanno Alfonso Esposito, presidente di Terraorti, Anna Guida, amministratore cucina a Sud, Emilia Ferrara, direttore Terraorti, Rosaria Sica, conduttrice e ideatrice del format, Bruno Avagliano, amministratore di Goi Comunicare e Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Experience.